Salve ragazzi sono Manu Vinci e in questo video andremo a vedere in dettaglio qual è la differenza tra FBA Private Label e FBA Retail che sembra una cosa un po' scontata per quelli che magari hanno già venduto su Amazon da tempo però per quelli che sono un po' più nuovi e non hanno mai venduto su Amazon è una cosa che sicuramente crea un po' di confusione ed è per questo che ho deciso di fare questo video per chiarire un po' i pro e i contro e qual è il miglior modo per incominciare devo dire che sono tutti e due dei fantastici modi per iniziare a vendere su Amazon che si possono applicare a seconda di che tipo di conoscenza si ha e soprattutto di possibilità economiche se partiamo infatti dal private label bisogna avere del capitale iniziale abbastanza alto infatti non si può partire in genere con meno di 3000-5000 euro ho visto anche delle persone che hanno cominciato con meno di quello 1500 però bisogna avere tantissima conoscenza nel fatto che bisogna saper come trovare prodotti con alta domanda e poca competizione bisogna saper trovare un fabbricante col quale ci si lavori per lungo tempo perciò bisogna essere bravi a capire come determinare se un fornitore è bravo o no se è uno di quelli da tenere o di quelli da scartare considerando i tempi di risposte, considerando i prezzi, considerando l'emo Q infatti uno dei motivi principali per il quale bisogna avere un capitale abbastanza sostanziale è che non si possono comprare quantità uniche da fabbricanti soprattutto fabbricanti cinesi che necessitano che si compri un minimo di centinaia o migliaia di prodotti per incominciare la fabbricazione i tempi di fabbricazione sono abbastanza lunghi ci possono impiegare dai 35 giorni fino a oltre 2 mesi per fabbricare un prodotto e per farlo puoi spedire che costa anche una bomba considerando il fatto che solitamente vengono spediti via mare e quindi sono altre 8 settimane da qui che vengono spediti dal porto cinese fino ad arrivare qui in Inghilterra per esempio a Felixstow poi ci sono delle spese di importo, spese di dogana eccetera eccetera perciò un capitale abbastanza sostanziale una volta che si riceva il prodotto poi bisogna anzi prima che si riceva bisogna aver fatto un listino che faccia convertire le vendite perciò bisogna fare delle fotografie con un graphic designer dove si spendono almeno io ho speso anche più di 600 sterline per fare delle foto sui miei private label che erano professionali, che avevano dei benefici, delle fotografie di vita attuale con specificazioni eccetera perciò anche già le foto sono un'altra spesa aggiuntiva poi bisogna fare un bellissimo titolo, dei bellissimi bullet points descrizione, parole chiave all'interno del listino bisogna anche sapere che software utilizzare per trovare tutte queste cose e soprattutto come fare le analisi perciò bisogna avere anche un livello di conoscenza un po' più avanzato se si vuole partire con il private label bisogna aver investito in un corso per avere tutta questa conoscenza perché solamente guardando YouTube, video su YouTube ci potreste mettere tanto tempo per avere tutto questo tipo di conoscenza per lanciare il vostro primo prodotto private label una volta che poi si ha il listino e si riceve il prodotto bisogna, non lo conosce nessuno questo prodotto bisogna sapere come fare un cosiddetto lancio ossia cominciare ad avere le prime recensioni così che il vostro best seller ranking che è un numero dato da Amazon a seconda di quante vendite ha un prodotto più è basso, più è vicino a uno, più sono alte le vendite perciò l'obiettivo di ogni venditore su Amazon è di far salire il best seller ranking di un prodotto il più possibile avere il più possibili recensioni per far sì che questo prodotto che una volta non conosceva nessuno viene poi riconosciuto e incominciano ad entrare le vendite bisogna poi saper fare Amazon pay per click all'inizio bisogna poi fare durante il lancio si fanno dei giveaway ossia si vende il prodotto a dei prezzi scontati fino al 50% o più alle volte il 70% di sconto perciò alle volte si recuperano solamente i soldi che si sono investiti solo per far avere alcune recensioni al prodotto è per far salire il best seller ranking bisogna fare della pubblicità esterna sapere appunto come fare gli Amazon pay per click sulle parole chiave per le quali volete che il prodotto venga trovato pubblicità esterna su YouTube, su Facebook si fanno delle pubblicità su Facebook per far arrivare traffico esterno che aiuta a far salire il best seller ranking del prodotto si comincerà così a guadagnare dopo mesi dall'investimento iniziale bisogna come ho detto sapere come fare tutte queste cose che vi ho elencato perché se non si sa fare bene può darsi che abbiate investito 3-5 mila euro e poi il prodotto non vende e sarà un completo fallimento ed ecco perché io anche se come ho detto all'inizio è un buonissimo modo di vendere perché questo è la vostra brand sareste voi gli unici venditori di questo prodotto però ci sono delle cose che bisogna fare per far sì che il vostro prodotto venga riconosciuto e incominci a vendere perciò le ricerche iniziali dell'alta domanda e poca competizione sono la fase essenziale che bisogna saper fare prima di fare l'investimento poi tutte le altre cose sono anche importantissime soprattutto fare un listino che venda recensioni, paper click, tutte queste cose sono tutte delle cose che necessitano tanta conoscenza per far sì che il private label sia di successo come guadagni si guarda con un private label una volta che il prodotto sta cominciando ad arrancare si allievano le spese si diminuiscono le spese di paper click il prodotto comincia ad essere conosciuto e si cominceranno ad avere tante vendite organiche a quel punto si può guadagnare anche 40-50% a seconda del prodotto però soprattutto agli inizi stiamo guardando dei guadagni molto più bassi perché dobbiamo considerare le spese che si fanno con i paper click per esempio dove se non si sta attenti se si ha un paper click che è maggiore della percentuale di guadagno allora stiamo vendendo il prodotto alla pari di quello che abbiamo speso o addirittura perdendo perciò bisogna sapere il margine netto di guadagno anche quando stanno facendo i paper click perché se è un prodotto che ci potrebbe dare un 30-40% di guadagno netto però facciamo salire l'ACOS che è l'unità di misura dei paper click su Amazon si fa salire l'ACOS più alto del tasso di guadagno che ci stiamo facendo allora lì incominciamo a perdere perciò all'inizio soprattutto è difficile far arrivare questo private label a un punto dove si vende mentre con FBA di retail questo mi porta a parlare di come funziona FBA di retail gli investimenti iniziali sono abbastanza utili per tutte le tasche se noi per esempio andiamo a vedere un forecast che ho fatto per i miei studenti se noi partiamo con un capitale di mille qui ho messo sterline però stessa cosa di mille sterline o mille euro e ci facciamo solamente un 20% di guadagno netto e continuiamo a tenerci il nostro lavoro perché questo non è uno di quei business dove si diventa ricchi oggi o domani questo è un business che bisogna maturare e far crescere però se uno tiene il lavoro che sta facendo e ha mille euro da investire il primo mese si fa 200 il secondo mese avrà 1200 da investire a questo punto il 20% di 1200 sono 300 euro si reinvestono di nuovo adesso abbiamo 1500 e via dicendo fino a che arriviamo partendo per esempio dall'ottobre 2020 andiamo a vedere ottobre 2021 siamo già a un punto dove adesso abbiamo 13.000 di capitale da investire perciò già nei primi 12 mesi stiamo moltiplicando in inglese c'è compounding effect ossia stiamo moltiplicando questi 20% fino a che arriviamo a un punto dove cominciamo a farci più di 3.500 di guadagno al mese ok? e se si continua per i prossimi 12 mesi se andiamo da ottobre 2021 all'ottobre 2022 stiamo cominciando a vedere che i guadagni aumentano in un modo abbastanza sostanziale perché quando si arrivano ad avere più di 10.000 a questo punto ogni volta che vendiamo lo stock durante il mese con 20% di guadagno il compounding effect sta facendo crescere il nostro capitale iniziale di investimento molto più velocemente e solitamente dopo i primi 12 mesi che si incominciano a vedere i frutti di quello che si è seminato nel primo anno ok? non c'è nessun bisogno di fare pubblicità con l'FBA di retail sono prodotti vi faccio alcuni esempi qua questo Samsung per esempio basta trovare il grossista vi darò un link di come trovare grossista di come trovare fabbricanti per i prodotti alla fine di questo video lo metterò nella descrizione però quello che volevo dirvi è che non c'è alcun bisogno di fare nessuna pubblicità perché stiamo vendendo prodotti che sono già conosciuti da tutti Samsung è una brand che conoscono tutti questo prodotto è un particolare per esempio ha un'estimazione di vendite mensili di 962 al mese venduta da 16 persone e anche se fosse anche se il buy box non so se sappiate cosa sia il buy box fosse distribuita equalmente che non lo è tra questi 16 venditori si avrebbero comunque centinaia di vendite mensili se andassimo a vedere questo prodotto per esempio questa media pad vende 957 volte al mese chi è che non conosce acqua fresh che non conosce colgate tutti i prodotti che come vedete qua vendono migliaia di volte al mese e centinaia di volte al giorno abbiamo la Rimmel per esempio questo è un altro prodotto che vende oltre 800 volte al mese perciò stiamo vendendo delle marche che sono già conosciute da tutti non c'è bisogno di fare nessuna pubblicità i tempi di consegna sono velocissimi perché a differenza del private label dove si sta fabbricando un prodotto completamente nuovo qui stiamo vendendo prodotti che sono già distribuiti in tutto il mondo dai fabbricanti e che possiamo comprare o direttamente dai fabbricanti o dai loro migliori grossisti che sono locali io vivo qua in Inghilterra per esempio se io volessi trovare un grossista di Samsung sono sicuro che troverei un grossista di Samsung qui in Inghilterra perciò tempi di consegna sarebbero circa alcuni grossistici mandano i prodotti entro 24 ore altri dipende da dove si trova il grossista per esempio ne abbiamo alcuni che sono in Germania, in Polonia, in Francia quelli i prodotti una volta che passiamo l'ordine che paghiamo ci arrivano entro 5 giorni perché vengono spediti con la UPS magari perciò 5 giorni che è sempre meglio di 2 mesi con il private label bisogna aspettare abbastanza si comincia a guadagnare da subito perché non c'è bisogno di far fare nessun ranking al prodotto perché chi è che non conosce colgate chi è che non conosce prodotti per lavastoviglie per lavare i piatti per lavare in terra sono tutte cose che sono nelle case di tutti noi di marche che già conosciamo tutti perciò si comincerà a guadagnare subito perché una volta che listi un dentifricio colgate i clienti i compratori su Amazon già conoscono cos'è colgate e lo comprano con confidenza non c'è nessun bisogno di fare alcun pay per click per far rancare il prodotto perché stiamo parlando di prodotti che hanno già tutte queste recensioni questo ne ha 8200 questo l'acqua fresh ha 417 recensioni 561 questa antica erboristeria se andiamo a vedere questo prodotto ne ha 20.300 recensioni questo ne ha 24.000 perciò non c'è bisogno di fare nessun pay per click perché il prodotto è già conosciuto da tutti nessuna pubblicità esterna e si può far crescere un account molto più velocemente perché appunto si possono continuare ad aggiungere i prodotti perché quando si trova solitamente un grossista che vende prodotti della colgate vende solitamente prodotti dell'acqua fresh prodotti prodotti per il bagno bagno in schiuma magari ora non mi ricordo le brand italiane però ci sono la Nivea la Palmolive per esempio solitamente quando si trova si parte da una brand e si trova un grossista quel grossista sarà specializzato in quella categoria e avrà tantissimi altri prodotti ed ecco perché si può far crescere un account molto più velocemente perché se ci cominciamo a fare anche solamente 200 di guadagno per prodotto basta avere 10 prodotti e già si sta facendo un guadagno di 2000 stelline al mese perciò per concludere qual è il migliore ripeto sono tutti e due dei modi di vendere su Amazon abbastanza profittevoli e che se si sanno fare vi faranno crescere il reddito il fatturato e i guadagni abbastanza velocemente però è molto più facile iniziare con FBA di retail e nel frattempo imparare che cos'è Amazon per poi utilizzare i guadagni che si sono fatti con FBA di retail per investire magari in un corso in un corso di private label imparare a fare tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima cominciare anche a costruirsi la propria brand passo passo mano a mano con quello che si fa su FBA di retail ora metterò un link qua sotto per un mini corso completamente gratuito dove potete imparare che cos'è FBA di retail e potete venire in contatto con me se vi interessa guardate questo mini corso che metterò qua nella descrizione e non dimenticatevi di cliccare mi piace se vi è piaciuto questo video e soprattutto di condividerlo ok ci vediamo nel prossimo video arrivederci ciao